Bella ragazzi e ben ritrovati nel mio canale di Cura93 Allora ragazzi, siamo arrivati a 1000 iscritti Il Roll to One Cup è finito E sono veramente felice di essere arrivato a questo traguardo Perché è veramente qualcosa di importante Non mi sarei mai aspettato in poco più di 6 mesi di arrivare a 1000 iscritti ragazzi Mi avete dato delle soddisfazioni enormi Ovviamente io ringrazierò voi, ringrazierò tutti i miei amici Tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso Per questo ho voluto fare una lettera, ho voluto scrivervi una lettera Quindi ragazzi non mi resta che leggervi la mia lettera Spero vi piaccia, non piangete, non è niente di speciale ragazzi È la prima lettera che scrivo per voi i miei iscritti Perché ragazzi veramente un rapporto profondo che ho con voi E con tutte le persone che mi sono state accanto in questo percorso come ho già detto Quindi ragazzi non basta rimandare Ma andiamo, vabbè diciamo leggiamo direttamente la lettera insieme Eccomi ragazzi con qualcosa di profondo per i miei 1000 iscritti Sono felice perché youtube mi ha dato tante soddisfazioni Sono felice di aver conosciuto tanti bravi ragazzi Più piccoli, più grandi, non importa È la passione per i videogames che ci unisce Il mio cammino su youtube ha avuto sia alti che bassi, ma più alti Ma alla fine sono sempre state esperienze positive Vi ringrazio per il supporto che mi avete dato in questi 6 bellissimi mesi Ma prima di ringraziarvi c'è una persona in particolare che ci tenevo a ringraziare Mio fratello Matteo Lui che mi ha aiutato sempre in tutto Mi ha spronato, mi ha addirittura prestato il suo computer per editare i video Ma la cosa che mi resterà sempre nel cuore è che lui per me, oltre ad essere un fratello, è un secondo padre È un amico, è un supporto e sarò sempre in debito con lui Lui è stato un rinforzo della mia vita e per questo meritava una pagina tutta sua in questa lettera Ovviamente senza sminuire voi Auguro a tutti voi di avere un fratello così magnifico o nel caso voi siate il maggiore di esserlo Torniamo a noi ragazzi che mi supportate e sopportate in ogni video Grazie di cuore per il sostegno Avete dato a me, non come youtuber, ma come persona, anzi ragazzo di 20 anni Nuove forze Youtube sarà la solita cagata e ogni aggiornamento lo rovinerà sempre di più Ma diciamo che per noi gamer è un punto di incontro Grazie a questo social player ho conosciuto Mattia Per chi di voi non lo conosce, non lo conosca È Matt Revolution È un ragazzo simpaticissimo, solare Che parla e sclera con me su Call of Duty Ghost E anche su Black Ops 2 Ho conosciuto Andrea, Rusher E la sua ragazza ovviamente, Carletta22 Che poi ho scoperto essere una youtuber come me E il mio compagno di avventura è Bebbo Che spero mi raggiunga presto su One Poi ovviamente c'è anche Giordino Il mio miglior amico nella realtà Ma che conosco da ben 15 anni quasi Non l'ho conosciuto tramite Xbox Live Quindi ragazzi, come potete vedere Siamo diventati una grande famiglia Io vi ringrazio per il supporto In ogni mio video Sono contento che voi siate entrati nella mia vita Perché siete diventati come una droga Quindi dal vostro cura è notato di tutto Spero che non vi abbia fatto commuovere Con questo video Vi mando un abbraccione, un bacione E un ringraziamento per il tempo che mi dedicate E come al solito vi dico Iscrivetevi, commentate Mette mi piace se ovviamente avete apprezzato il mio video Spero che questo video vi sia piaciuto veramente Mettelo nei preferiti se veramente lo avete apprezzato E noi ci rivediamo col prossimo video Quindi da cura 90 è tutto Ci vediamo alla prossima Ciao raga